Siamo ridosso del 29 giugno. Bisogna pertanto prepararsi per il rito della barca di San Pietro. Quello con l'albume di un uovo, possibilmente fresco, versato dentro una caraffa d'acqua. Innanzitutto il recipiente va scelto con il fondo tondeggiante. Questo per aiutare l'albume ad assumere quella forma della chiglia della nave. L'acqua va bene quella corrente, si riempie il contenitore fino a due terzi. Non servono tante uova, non dovete fare la flotta navale della Serenissima che vinse la battaglia di Lepanto. Basta un uovo. Una volta versato l'albume dentro la caraffa d'acqua, questa va lasciata riposare per tutta la notte in un punto dove il sole non ha picchiato forte. Se noi posizioniamo la caraffa in un posto che è ancora caldo, l'albume si cuoce immediatamente e perdiamo la magia della notte. Piuttosto aspettiamo che si faccia tardi per realizzare il rito. Altro dettaglio. Al mattino seguente individuare il punto migliore per effettuare la fotografia. È importante anche scendere lo sfondo ideale per la fotografia, che si presti possibilmente anche all'abbinamento barca-acqua. Il blu. Beh insomma, alcuni consigli ve li ho dati. Ci si vede tutti sui social il 29 di giugno, giorno di San Pietro e Paolo, ognuno ad esporre la propria bella barca di San Pietro. Dal porto navale di Roberto Popifrisom è tutto. Bevo mia stacca.